La luna su Torino, questo è il titolo del film, è un film curioso perché, come dice anche il titolo, è ambientato a Torino, quindi Davide Ferrario torna sul luogo del delitto. Poteva essere ambientato sulla luna anche. Chissà da là come si vede Torino, se si vede bene la mole e così via. Ed è un film in cui i luoghi e il concetto forse di luogo sono molto importanti Davide, perché intanto perché racconti una Torino, insomma io Torino la frequento grazie al Festival di Torino spesso e volentieri come si dice, però c'erano dei luoghi che io non avevo mai visto e poi soprattutto io non lo sapevo che era sul 45esimo parallelo. E da lì che cosa parte, che riflessione parte? Allora, partiamo da questa cosa del 45esimo parallelo, che non attraversa solo Torino ma gran parte della pianura padana. Solo che uno non ci pensa mai, soprattutto al fatto che il 45esimo parallelo è alla stessa distanza del polo nord dell'Equatore. Quindi, senza rendercene conto, noi qua stiamo a metà dell'emisfero nord, a metà del mondo settentrionale. Il che vuol dire tutto e vuol dire niente. Soprattutto quando attraversi uno di questi cartelli che ti indicano che sei lì, c'è nessuno sull'autostrada per esempio, ti fermi un attimo e ti guardi intorno e vedi la pura pianura padana. Però è proprio, penso che da lì si debba partire e cioè scoprire l'arcano, il fantastico, nei luoghi normali. Perché è molto semplice, anche un po' banalotto, prendere un aereo e andare nei posti più esotici a vedere le cose straordinarie. Invece, credo che la fantasia ti dà una maggiore ricompensa se l'applichi a quello che sta intorno a te. E che di solito ti sembra così banale, ovvio e quotidiano. È un'operazione che avevo già fatto in Dopomezzanotte qualche anno fa, in cui la Torino che metteva in scena era soprattutto quella della Mola Antonelliana del Museo del Cinema. E Torino, apposta, e lì ci torno, perché è una città che a differenza di altre città italiane, che sono, come dire, indissolubilmente legate alla loro antropologia. Cioè è difficile immaginare Roma senza i romani, mentre secondo me è facile immaginare Torino senza i torinesi. Cioè Torino è uno spazio, è uno spazio trasparente che può essere utilizzato per essere un'altra città, per esempio, ma che ha un'anima nascosta ed è un'anima che ti permette di guardare molto lontano. Allora, se combini le due cose, se pensi che lì sei sul 45esimo parallelo a metà del mondo e ti guardi intorno in questa Torino che ti propone un paesaggio, ma dietro c'è un altro, nelle immortali parole di Leopardi citato nel film, beh, comincia a fantasticare e la fantasia credo sia una grande ancora di salvezza e una via di fuga ai guai del mondo. Perché non credo che i guai del mondo ormai, nei vicini 60 anni, riusciranno mai a risolverli, ma forse fantasticare di poter sistemarli in un qualche mondo che non è quello che vediamo tutti i giorni, allora sì, è quella la via dell'arte, della letteratura, di tutto. I tre protagonisti di questo film si aggirano per Torino e poi si ritrovano a fine giornata in una casa sulle colline. Uno di questi tre è Eugenio. Sono tre personaggi, non so se siete d'accordo, ma guardando il film sembra che siano tre personaggi che restano sempre in equilibrio su questo 45esimo parallelo. Cioè, sono in un momento della loro vita in cui non sanno bene dove andare, non sanno se partire o se restare, non sanno in che modo porsi con gli altri, non sanno in alcuni casi neanche che lavoro fare o che scelte fare, no? Eugenio, tu il personaggio l'hai costruito così, ve lo siete detto così con Davide oppure ci hai messo del tuo? Allora, per quanto riguarda la questione appunto dell'equilibrio di cui stiamo parlando, ecco, il mio personaggio, a differenza degli altri, è uno che da un punto di vista pratico l'equilibrio ce l'ha. Si ha un lavoro e studia, quindi apparentemente è il più equilibrato, diciamo, quello che sta meglio di tutti. Però effettivamente invece no, perché non ha un equilibrio interiore, quindi non ha un equilibrio dell'anima, non ha una visione concreta del mondo, non sa a cosa aggrapparsi nella vita. E questo si manifesta attraverso appunto la sua voglia di scrivere del mondo, perché appunto è come mettere delle basi a dei pensieri che se no non hanno concretezza, e anche attraverso la mancanza di un rapporto sentimentale con le femmine, con le donne, stabile, ecco, anche nelle amicizie, insomma. E quindi poi lui l'equilibrio, anche se ancora instabile e precario, lo trova più che altro alla fine, con una scelta di anima, cioè d'amore verso una persona, verso un'idea di vita, anche lasciando quella che apparentemente sarebbe stata una cosa più concreta e più stabile, come lo studio e il lavoro, mettendo da parte quindi un apparente equilibrio per cercarne uno concreto attraverso un percorso interiore. E personale. E personale, sì. E personale. Tra l'altro al tuo personaggio sono affidate alcune scene bellissime del film, che sono quelle girate dentro lo zoo, cioè nel rapporto con gli animali. Animali che attraversano questo film, c'è un topo che percorre la casa, c'è una grande tartaruga che forse è più saggia di tutti. Ursus, che forse è la più saggia di tutti. Ci sono dei pinguini, dei pinguini tra l'altro che vengono tenuti lontani dalle faine, in che modo Davide? È un peccato, ma è vero, è successo che quando siamo andati in questo, questo non è uno zoo perché ormai non si è politicamente scorretto, in realtà davvero, è un bioparco che si chiama Zoom e che sta a Cumiana, sul 45esimo parallelo esattamente, a pochi chilometri da Torino, facendo i sopralluoghi per una scena notturna, e diciamo una cosa poi che non abbiamo detto su questo film, è una commedia, perché stiamo usando parole molto importanti, ma tutto è in chiave di leggerezza, insomma sento un rumore di fondo strano, era a mezzanotte, c'era una roba accesa degli altoparlanti, dicono ma perché, cos'è queste cose? E i guardiani lì sui veterinari dicono, dice, ah no, ma questo li teniamo, è radio radicale, e dice, vabbè, ma perché ascoltate radio radicale a mezzanotte in un bioparco? Dice, no, perché serve per tenere lontane le faine e le volpi dai pinguini. I colleghi di radio radicale non saranno contenti. Beh, però c'è una logica, attenzione, perché, infatti gli ho chiesto, ma come mai è radio radicale di tutto? Capisco l'idea di tenere accesa una radio, per spaventare i predatori, ma perché quella? Dice, perché è l'unica radio che parla sempre, e siccome è la voce umana che tiene distante i predatori, insomma, c'è questa immagine straordinaria, trovavo, dei pinguini che ascoltavano un dibattito parlamentare. Nel film c'è un'altra cosa ancora che si faccia anche più ridere di quella. Davide, in questo film hai messo due elementi che vengono dal tuo cinema pregresso, le mondine e i partigiani. Oddio, sì, anche qua, mamma mia. Anche qui, devo dire, in chiave, cioè non vi mettete paura. È veramente una commedia e le mondine fanno molto ridere nella scena in cui le hai messe. Sì, sì, io credo che ci siano delle cose che tu fai che non esaurisci con un film o due film. ma ci sono degli elementi che possono tornare. E in questo caso qui mettere in cortocircuito una cosa così apparentemente fantasiosa come la luna su Torino con quell'altra storia lì, quella delle mondine, su cui ho fatto un intero film, credo molto bello, che era di madre in figlia. Beh, loro credo che siano... A me sono sempre piaciuti i paradossi. Mettere insieme queste due atmosfere crea che è un cortocircuito pieno di energia e anche di molta poesia. È un'idea di cinema che penso, insomma, personale, che non vedo tanto applicata in Italia, dove le commedie sono molto più giocate sugli stereotipi sociali che non sull'invenzione di tipi che raccontano altre cose, significano altre. Forse questa è una commedia più filosofica o poetica come ha scritto qualche d'uno, dove poesia non significa però, credo, melodramma o macerarsi addosso, anzi, credo che il film sia molto veloce e cerchi di... È davvero un film lunare, in questo senso, la luna nel titolo ha un significato, ce l'ha. Poesia, luna, Leopardi, lo hai citato prima, insomma, Leopardi anche come atteggiamento filosofico di vedere l'infinito dalla finestra di casa, è un po' questo. Sì, oggi ho detto una cosa in conferenza stampa, dopo l'ho chiamata Luciana, perché ho detto questo, che secondo me, da un certo punto di vista, proviamo a dimenticare Leopardi che ci insegna una scuola, ma prendiamo quell'altro Leopardi, quello della critica sociale, quello che studiava i suoi tempi, ne parlava, le metteva in berlina, insomma, ho detto che Leopardi era Luciana Letizietto del suo tempo. Poi ho chiamato Luciana per dirgli, se lo leggi, preparati, perché ti sentirei... Ma è un po' vero, nel senso che ci sono aspetti, alcuni sono anche citati nel film, c'è una citazione molto divertente di Leopardi, c'era tutta una parte di Giacomo Leopardi che era quella di un uomo che stava lassù, a Re Canati, a guardare l'infinito, separato dal mondo, non l'ha capito perfettamente come andava. E questo aver capito il mondo come va, i suoi guai, e non poterci fare niente, perché è la sua condizione che lui è espressa in poesia e anche in filosofia, ma credo sia la condizione della modernità. Cioè anche noi capiamo tutto, davanti ai computer, abbiamo il mondo lì a portata di male, il nostro infinito adesso uno schermo credo di internet, sappiamo le cose che non vanno e siamo totalmente impotenti a cambiarle. Ecco, in quella cosa lì la lezione leopardiana è da recuperare ed è una cosa che appunto a scuola non ti hanno insegnato. Io ho cercato di farla in maniera lieve ovviamente dentro lo stile della commedia, per cui insomma c'è anche il personaggio di Eugenio che si entusiasma di Leopardi anche se poi lo scambia per Moccia. L'hai chiamato Moccia per dirglielo. No, non ho un rapporto con Moccia per cui non lo so. Allora, Eugenio volevo chiedere in questo, in queste figure di ragazzi che che Davide racconta quanto ti sei ritrovato? Perché poi tu hai più o meno l'età del personaggio che interpreti, no? Sì, tanto. Ah, ecco. Sì, sì, mi ci sono trovato tanto e anche Davide durante lo svolgimento del film ha inserito delle piccole cose che riguardavano me. Quindi anche delle piccole modifiche al personaggio in base a come ero io, come ero ventenne, io ventenne. E quindi anche al di là delle caratteristiche che già mi accumunavano per alcuni aspetti a questo personaggio perché appunto magari stavo riflettendo mentre parlava Davide e questo fatto che adesso abbiamo la possibilità di guardare l'infinito tutti quanti attraverso uno schermo e quindi abbiamo una più facile comprensione di quello che succede nel mondo forse ci porta proprio per questo ad avere un po' una tristezza di fondo a noi ragazzi perché ci sentiamo impotenti. Magari conoscendolo un po' meno saremo un po' meno peso sulle spalle invece la mia generazione lo sente questo peso forse proprio per questo motivo il film esce il 27 di marzo Davide Ferrario ne è regista e ancora una volta il produttore è una forma anche questa di libertà di nuovo è una precarietà che è una libertà cioè è difficile essere dipendente in Italia in questo momento perché il cinema che sta peraltro andando bene ma o è fatto di casi particolarmente fortunati come quello di Sorrentino oppure è molto appiattito sulla commedia e ne escono 4-5 settimane insomma non c'è molto in mezzo purtroppo cercare di fare di tenere una strada personale non è facile essere indipendenti anche dal punto di vista produttivo è una risposta strumentale non ci tengo io sarei felice essere un produttore con dei soldi che mi paga a me per fare il film 12 insomma 12 non faccio il produttore per diventare ricco lo faccio per una questione di necessità però anche quella è una forma di libertà perché mi permette per esempio di fare un film come questo in poche settimane a basso budget e poi di tenermelo lì più di un anno per montarlo e lasciarlo lievitare perché trovo che sia necessario metterci del tempo nelle cose no sono tanti i posti della città sono soprattutto i posti della città post olimpica però che è una città poco conosciuta quella che è costruita dopo il 2006 ci sono dei parchi urbani straordinari e questi inserimenti trasformazioni della vecchia città industriale la Fiat e tutte quelle che ci stavano intorno in qualche cosa d'altro è come se avessi tolto la pelle la carne e la Fiat e fosse rimasto lo scheletro e questo scheletro sono queste fabbriche che stanno in mezzo alla città che le intuisce ancora come tale ma sono diventate un'altra cosa per esempio nel film si vede che quello che era l'area ex strippaggio della Texas è diventato un posto dove si fanno i rave ma è anche il posto dove si riuniscono alla fine del Ramadan 10.000 musulmani a pregare e lì di nuovo hai una visione perché non ti aspetti che la città ti possa offrire questo tipo di cose di nuovo la fantasia è un po' dietro l'angolo bisogna andarla a cercare e allora per grazie allora Davide Ferrario e Eugenio Franceschini per averci raccontato la luna su Torino alla prossima grazie a voi speriamoci sia una prossima come si dice in questi casi grazie a tutti grazie a tutti